No, no, ti prego, non adesso! Fermati Sergio! Ricordi le gite domenicali in famiglia? E il viaggio pareva non finire mai, con mille imprevisti. Ma se avevi bisogno di una mano, noi c'eravamo. Ricordi quando tutto era davvero rock? Pompavi il volume e spingevi sul gas. Volevi stare sempre al passo. Noi ce lo ricordiamo bene, tu e lei eravate una cosa sola. Poi hai capito che serviva dello spazio in più. E ti abbiamo offerto un sogno. Oggi ti diamo il benvenuto nel futuro. Dove la tecnologia è al servizio dell'uomo. E interagisce con lui per permettergli di raggiungere ogni traguardo. Quando l'innovazione tecnologica incontra la passione, tutto è possibile. Quando il viaggio è sicuro, può portarti ovunque. Quando sai di poter affidare alla competenza di chi vuole solo il meglio per te, allora tutto diventa facile, luido, piacevole, semplicemente perfetto. Quando la sfida con te stesso diventa sport. 50 anni di esperienza, plasmata dalle performance. Sordo Auto Dal 1971 Al servizio del cliente Vendita Noleggio Officina Centro revisioni Gommista Carrozzeria Lavaggio Parcia